Chi ha ragione? In parte ha ragione Spalletti In parte però Perché? Perché il risultato Arrivare a fare una competizione come la Champions League è fondamentale Non andiamo a fare la coppetta Noi lo scudetto l'abbiamo perso sul campo Perché non siamo stati in grado, come diceva prima Gaetano Di mettere una squadra decente in mezzo al campo E qui le colpe, le ho detto pure l'altra volta Sono di Spalletti Lo scudetto è stato perso sul campo Non perché ci siamo accontentati Perché non penso proprio Oggi non è colpa sua La ragione Spalletti è la ragione Vertens Il primo importante Il Napoli l'ha raggiunto anche in carrozza Esatto, tre giornate tantissime Ma non solo, non è mai sceso sotto il terzo posto il Napoli in campionato Quindi è sempre stata una zona Champions Però, ed è quello che poi i tifosi imputano a questa società Non si fa mai il passo in più E non si era nemmeno quasi Sembra quasi trasparire Manco l'interesse di farlo questo passo in più Tant'è che quando poi capita l'occasione Quest'anno c'era l'occasione Poi è lì che la squadra deve venire fuori E deve portare a casa il risultato E quest'anno invece non l'ha fatto E sembra che quasi non interessa a nessuno E poi è un'occasione Grazie a tutti.